a compartire direttamente veloz come la luce le ashtag di oggi sono bellissimi Ratti volemico Ratti ti ho dedicato un ashtag oggi allora a compartire il like per favore per favore mamma mia un secondo eh chicos che case stai case stamos case staremos ragazzi un secondo per favore sto partendo la live con i miei amici quindi speriamo di fare lo stesso il test audio qualcuno l'ha fatto no fallo va che va frango ola 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 perfetta ola 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 ma avete sentito quanto c'era? No, è che ripeteva quello che dicevamo noi, c'era qualcuno con l'audio acceso? No, no, ero io perché lo facevo a forza Quindi, minchia, non ho salutato neanche nessuno Volevo giocare, si vede? Quindi, ragazzi, come state? Non ho salutato nessuno, non hai salutato Nadia? Scusate, ragazzi, disculpate tutto Ora vi voglio salutare Come va il diretto? Va bene, diretto Allora Allora, un saluto va per Ferchino Per Dicaduca Gabri Game Saletta Ratti Ratti Tyler Nicole Hello, hello, hello Pa 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 Cazzolina, cazzolina Cosa? Qualcuno? Leggi Franca o no? I senti il request Ok, toccuno l'aula E ancora i rigoli? Perché non dovrebbe esserlo? Perché le pesca? Assisti Assisti Mi ringrazito E tu ringrazito che? Mi ringrazito a Nicole Ma che laggata che ha fatto questo rubro, Doc? Sì, io credo che Nicole non l'accetto più, sai Perché? 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 Perché non è stato un player Ayer Mol, molto Efficazio E una persona Bastante Ah sì Sì. Sì. Ora puoi essere... Tu sai in inglese se vuoi? No, no, no. Ora... Tu hai che comprendere. Tieni che fare... Come fare la persona. E già sta. E lei si comporta male... Se porta male... E ora... Io finta di nada, tío. M.S. Mesuda. Mesuda l'unicornio. No. Buena, buena. Allora... Io hablo molti idiomas, non solo spagnolo. Si è iscritta una persona su Twitch. Non so se mi siete resi conto. Aspetta un secondo. Gabriel. Sì? Habla... Habla italiano. No, ho parlato molti linguaggi, non solo spagnolo, ovviamente. Ho parlato... Ho parlato... 4 o 5. Gabriel, multilinguaggio! Multilinguaggio! Tranquillo, Duka! Tutta? Perché sono polemico io a scrivere Ratti? Ah, ma c'ho la chat bloccata. Per quello non leggo niente. No, no, Ratti, non sei polemico. Diventi polemico. Non è la stessa cosa. Quando sei annoiato diventi polemico. Ok. Ragion per cui vedi... Cioè... Non lo so come dire. Se la cosa è andata male una volta, perché tentarci la seconda, no? È come dire... Mio figlio è stupido, perché devo lasciarlo in vita? L'ammazzo! No? È la stessa cosa. Nella vita, come ti ha detto quel coglione, eh? Si evoluziona, si cambia, si tenta di fare le cose sempre meglio. Se no, rimanevano come le scimmie. Ragazzi, se vedete che qualche volta è stato della scelta vocale, è perché la connessione alcune volte cade. Ma si riprende dopo sei gumbi. Sì, mi riprende. Ok. Ok. Vabbè, per me anche se non torni più. Ok. E allora, che tal, chico? Tutto bene? No. 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 No, no. lo che non comprendo è perché mi va si mal ma voi vedete bene raga oddio ci cose è diretto a bian si oh tanti auguri tanti auguri augur tanti auguri augur tanti auguri pisquanello tanti auguri augur precauzione mui mal perché mui mal mui mal bravissimo bravissimo ora si ora si a me va come ha dato una sparata a 15k perfetto allora chi cosa è diretto va bene si è prebuntato perfetto mi ha dato una sparata a 15k di nuovo boom ieri andava a 6 oggi va a 15 buonasera a te cuginetto mio cuginetto mio il megalodone è il tiburone più grande che ha esistito non è tenuto il mobile debacco della mano e come lo vediamo sempre non è blocchiato nadi eh doc io non divento polemico io non divento polemico questo è quello che dice ratti attenzione qualcuno può rispondere a ratti c'è qualcuno in sala che può rispondere a ratti certo che no ratti non diventi polemico ma quando mai ma quando mai ma quando ma quando ma quando ma quindi 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 e quando quando reaction hai reaction non so perché ragazzi dopo si saprò ottenendo a dire le reaction poi l'ho a lotto stangue e tanto su reaction no dico di c'è qualcosa di strano reaction reaction ASMR io sono in palca in palla col computer che mi sto dando un errore della non so che cos'è questo cazzo di granchetto che mi da ma dico di peru probabilmente crescerà il computer tu dici no non lo so mi sta dando come il simbolo dell'auditec del della scheda scheda non so cosa sia però volevo cercare un secondo eeeh ragazzi andiamo in privato dopo chico 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 vamo sempre eEE Psychhh così intento di verre e soluzionare questo problemito portè ok no solo lo che es questo problema cioè se solo quei esWeek se solo questa perché come se fosse SPahn la di scheda graphic no mi dà il grandchettino della della scheda grafica però non riesco a trovare l'errore e l'errore c'è solo un codice vedi mi sa che vai a ragione Ratti ma chi è che si sta mi senti anche tu teche 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 Flavio lo basta chi sta? no perchè se c'è qualcuno che esce in continuazione sono io perchè la connessione se non hai scuro la scende vocale sai no 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 non ci credi? non ci credi? no no un sniper credi ci credi no 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 non ci credi non ci credi ok ecco 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 ha sorruito con la ropa andiamo andiamo su una seconda in privata andiamo su una seconda in privata ragazzi perché voglio capire che cazzo sta succedendo al computer senza codice così entrano tutti belli e brutti che cazzo tutti sordi io vi voglio ora veramente solo siamo queste due persone tutti sordi tutti sordi tutti sordi tutti sordi tutti sordi tutti sordi a parte che cosa l'ha certo a fare nick nick che dice che è il di ayer 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 non va a essere te perché non mi ha messo se sta su scritto non vuole se non lo credo sostanzialmente mamma mia Che cazzo di faccia che ho? Iurino! No ma Ma questo qua non ti aveva già mandato la richiesta in amicizia ieri? Chiaro? Iurino? Iurinissimo Iurino? Iurino? Non è che non è Nicole No 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 se vuoi avere la foto ti asusta Freeskill Gaming Hello Welcome 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 Ragazzi sono due persone veramente Come on If someone wants to join Uno con B1 Uno B1 No 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 B1 Oli Antonio che tal? No 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 Why? Eh perché devo fare una cosa Gabri? Vale vale Non capisco che cazzo sta succedendo al mio computer Gabri Bizarre Gabri You are You always do One vs one Gabri Bello Gabri Oh Frank stai dietro al chat per favore tu Capito? Che cazzo ne so cosa è successo E' paladins Martè Franci non vedi che paladins B Chora Patrino Cazzo Bello Chora Sago Fai Adriano Br Min'e dispiaci tenta di chocerci Gabriele? Sì? Gabriele, sempre ricorda che Sara è una trolla quindi si può provare a fare una partita e poi ti uccide Sì Hai fatto con me? No, no, no Non ci credo Oh, parla meglio l'italiano Gabriele che ratti hai sentito? Ratti Nooo, all'ultimo All'ultimo Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Hai dovuto giocare in tactica Sì, aspetta, aspetta Like this Sacale los intestinos He doesn't die Oh my god There you go Ma, 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 il velo Ok, abbiamo to Wow, Gabriele Ok, abbiamo to There's Sara Dai, dai, dai Andiamo Sei da me, sa, che non Qui Non puoi dire Ok Qui, 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 qui Non ci credo Non ricordo Good Run, run, run Dove vai? Scimunito Stai qua, aspetta Fammi finire Che io vedo Io la vedo la chat, eh La cotoletta È la cotoscritta A Noi, che non Ci faccio Ho fatto A È È È E E veri match al primo di troppo però non riesci a andare dai ratti ci vediamo nella live di stasera allora io ragazzi handicap match ragazzi i have to setting one things of my oh 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 gabri per favore veramente veramente troppo fastidioso ma lo sto ponendo meglio lo sto ponendo meglio no perchè enserio se oye solo tu che haces no non è un perro è come se fossero due perro in uno ma non puoi intenzionarlo sembra come anche signorino allora e comunque va a qualcuno che sanno arrabbito con te buffule arrabbito arrabbiato no tranquillo cosa fa questa persona vedi c'è messa sul cazzo a me wow oh non devi arrabbirti che se ti arrivi poi alla fine cioè io lo dico per te per la tua silute più che altro mettete sti cazzo di like quanti siamo arrivati a 50.000 like già frank ma io credo che il problema lo sta creando proprio frank sai adesso sei crashato vero frank ma sei crashato no dai si 14 spettatori ma ne sono entrati vuoi che ti dico quanti ne sono entrati fino adesso 50 persone sono già entrate abbiamo 14 like sembra che abbiano paura di sembra che pagano non lo so non si pagano i like vero sono gratis e non lo sé tio perché sempre la persona esperan non ponen like al final uno dice io credo che comunque sei crashato tu prima con la voice vero franca frank sei crashato tu con la voce e allora se tu che mi stai dando il casino sai eh non so cioè forse è meglio che ne esco oppure perché credimi mi sta dando dei picchi e mi da un problema alla scheda però io ho problemi adesso come adesso non non quelli che sto guardando non non c'è un cazzo di problema si si allora esco oppure provo a fare un'altra cosa cioè e scelta vedi hai messo un'altra botta mi hai dato prima cosa no si sei tu franca 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 sei tu eh si Nicole non è felice ma ho un problema con il mio PC quindi ho dovuto soltarlo o ho scelto il stream quindi non è felice no no my problem man sorry eh oh ragazzi scusate non stavo leggendo la chat sono arrivato adesso di nuovo allora eh boh minchia qua la gente entra ciao doc ciao doc ciao doc una persona mi saluta 15 volte nessuno le dice che non ci sono eh ciao fede se ci sei adesso sto leggendo di nuovo i messaggi ehm devo andare doc nessuno mi caga chiaro c'ho due persone in chat e nessuno legge la chat ehm Brian hola hola che tal disculpami però tengo un problema tengo un problema e nada ora posso leggere la chat e il chat lo posso leggere Assessino che tal guapo e spero che sia stato uno qui eh scusami fede scusami 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 mi curo hello hola e Rosio guapa ora stai via tra me vale bene eh na no no Iuri, Iurino, come stai? No, Frank non c'è perché sta lagando alla gavambotto, zio. Ah, ok. C'è meglio che il Frank, perché calcolate che ogni volta che il Frank lagga, il mio ordinateur mi dà un problema. Ah, ok. Perché il Discord, cioè questa cosa del Discord è così buona, così merda, perché hai visto quando desattivo il microfono, passa qualcosa di raro, che non si oye nulla. Ok. 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 Come va il male, Iurino, se sei ancora qui? Meno sei giorni rimasti e torna in casa. Dai, Iurino, che ce la fai. Oh, Fede, hai visto come gioca Barrassa? Ti piace quel giocatore? Ok. Wow. No, 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 no. No, 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 no. Dillo bene, Capri. No, 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 no. Eh. Voilà. Wow. Oggi è molto... No, 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 no. Impossibile. Uno per un lato, otro per un lato, impossibile. Saletta, chi ha avuto? Quadra, io non posso vedere la live. Ah, Iuri, vuoi fare di merda, eh? No, no, oh my god. Wow. No, ragazzi, ho il computer che non mi va bene. My computer have some problem, guys. I don't know why. Restart the lobby. Da, 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 da. Chut, da, 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 da. Oh, la mano! Che tal stas? Io ho ho un problema nel ordinatore oggi. No lo sa. Hola, ferchino! Mignoncito! 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 Mignono! Bara, 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 bara! Che fai, fai. No, sei solo, eh. E stai solo. L'ho vendita, Jess. Allo sarà, beh. Come даже, come. Affiliate,retto no a controlerò la forces E poi io ho! Ayer hay que di su miedo? Jaiiiii, Lignoncito! nooo come gosh vaare ciao Ioros come stai? ok ciao Belly ma un e o 3 people do pro seno boi o youtuber che mi da problema in odio non so ah mia vo mia vo C'è, guarda questa cosa Secondo YouTube siamo 9 persone In live, no? Siamo 9 persone Ma se 8 persone stiamo giocando Più Yorus Yuri e Frank Hai capito? Siamo già 11 In realtà YouTube me ne sta Santo Gabriele Questo ruido è fatal En serio Non so come vuoi A ver se posso Ingenierare Non lo so perché si oi tutto il tempo Questo Asi 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 Le eri otta bene Le eri otta Il tono perfetto In casa letta Incredibile C'è qualcosa che non mi va o il computer o te lo giuro youtube vi darei fuoco in questi giorni vedete bene il diretto si? se veste bene se scucia bene si si se se veste bene si? se veste bene se scucia bene si si se ok a me sta continuando a dare un errore che non ho mai visto se resta adesso sei coccodrillino e così si madonna madonna no no perché hai algo che non va adesso hai preguntato se il problema è di youtube cioè youtube mi sta provando provando un problema o bs non lo se perché mira dice che siamo 8 spettatori vale e stiamo jugando in noccio e tre persone lo stanno jugando e quindi allora ti pone 11 allora ti pone 11 spettatori ah perfetto quindi è il mio ordinatore che è il mio ordinatore che tiene il problema di algo è il mio ordinatore da uini SS ha il problema in algo tio si hay un problema con alg 45 anni si italia 1 ok io non riesco a muovermi si io a me sta salendo la labia perché stai mirando il l'ordinatore che mi prende l'ordinatore vale pare se tutto il tempo che se obede se blocchia e mi invia un mensaggio entiende in verità no se va solo la pantalla e apparece altrove ento se io mi parlo per mirare la pantalla lo che sta passando e non sta passando nada entiende e già sta e due persone stiamo parlando e già mi sale sopra i 130 mil e non se il porquè però mi molesta perché no ayer salia 60.000 80.000 lo che tiene che salire ora mi sale mas che il doble oh mio dio la mia welcome benvenito benvenida benvenuto non lo so e ti noza ah bevite a caldo e bevete come non siete caldi no no non mi è caido no 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 ok oh mio dio ti ha detto che la 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 boh non lo so raga allora forse internet mio non non so cosa pensare ma ci sei tu sarà dentro ragazzi la password sono 2555 e quindi mi sa che la base che c'è qualche problema con internet ma le facciamo così etinosa etinosa te lo ricordi no ah etinosa o jeva molto 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 tempo che viene etinosa eh allora non la guarda però io chi è che ti sta dicendo qualcosa dimmi dimmi che li piscio li piscio addosso chi è ma io forse non vedo la chat raga qua c'è gente che sta parlando da sola io a rus con chi parlavi io calmo ancora lo sto subendo la spalla no 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 ma io non vedo niente che le ha detto niente tio dice io calmo e dice e tu che tal e tu che tal e questo fu il primo che ha detto non ha detto niente e tu che tal dice vale ma non è che sta parlando con persone che noi non vediamo per esempio magari la domanda andiamo a vedere CURU non piro 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 muerto e piro 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 papà e piro 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 qui il bingo è il livello 38 e il livello 39 non so chi è buono oh mio dio quanti snipers e quanti togono di nuovo la connessione con l'organizzatore si è interrotta perfetto io allora credo a questo punto credo che ho problemi io con a a fare l'oste raga ma io parlo spagnolo bene spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo ragazzi non so se lo sapete ah ferchino e piru ah certo non mi metti che facciamo? giochiamo a paladin dopo così riavvio il computer saretta proviamo paladin dopo perché così almeno con la scusa riavvio il computer anche perché non lo so c'è qualcosa che non mi convince riavvio il computer e il modem no no che no c'è ora ora è sì perché credo che devo che reiniciare l'ordinatore perché algo me va no no tengo che apagare l'ordinatore un secondo e chiaro apagare il modem anche perché non lo so c'è non mi piace fare l'ordinatore bene bene si può avvisare per entrare nel chat bocca al vero? chiaro chiaro però questa va a essere la ultima partida? no una la facciamo ah va oh my god what? vale il curvo è che mi matò da io saltando e si dove c'era il acqua e non c'è e non c'èanto grazie ok oi ha no Ray Obladi obladam Obladi obladi, obladi poter Es que Bingo se puso Piro al disco y me puse asia la sitch oh, vale Hi Tisan, hi Elena Hello Tisan I don't see the chat but let's put the camera in the moment Elena, hi! How are you? Tisan, how are you man? I hope you are fine Today my PC don't work properly It's really really bad I think I need to restart it Oh! Here we go Here we go! Here we go! Here we go! I'm not man In other games I don't crash But Sara, I think I have any problems Because I don't know Look, I can't even see the camera with my phone I don't know the problem 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 But there's something that doesn't work I don't know the problem So I can't do it Let's see But a lot of money I can't even break my phone But I can't even stop What's that? di strano sta succedendo wow what happened boh boh no no è da dietro ah peru 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 ah peru ah non credo manuela credo che il problema è mio sai non io credo che ho un problema io ho infatti voglio reiniziare voglio reiniziare o cambiare qualcosa perchè io mi direto lo veo fatal si muove tutto tutto e non lo sai non lo sai quello che ha passato veramente raga io ho la testa adesso sul fatto che non mi sta andando bene diretto che mi sta scattando il computer e che la gente non riesce a stare nella partita è bene Sì, io chico che ora in un minuto o un'ora e avrà un'altra parte del paradiso. No, tengo che restartare l'ordinatore e comprendere un secondo il perché mi ha passato questo, tío. Perché tengo un error costante nell'ordinatore. Costante. E 43 persone stanno giocando tutti a Fortnite, tra le altre cose, no? Chiaramente. A ver, quiero verlo. Quanto ti credo? Splatoon, Dragon Ball, Fortnite, Fortnite, Fortnite... Oye, poi, Fortnite è molta gente, eh? È molto Splatoon, ma molto Fortnite. Sì, allora... Oggi c'è il desafio del... come si dice? La settimana 5. 5, sì. No, però, igualmente, tío, no, no... Puoi restartare il computer e tutto. E... Sì, sì. E... Y ya sta, voglio vedere lo che passa. Sì, tu mi dici per privato, eh? Claro, claro. Chicos, disculpai, però ripeto, non... Tengo un errore nell'ordinatore, fijo, che non puedo quitarlo. Entonces... Non sei come... Attuare sta mierda. Cioè, come quitarlo. Eh, Nicole, I have to restart. Because, eh, I have one problem in, eh, in my PC. Eh, so... I don't know... I don't know how to keep out my... The error. I have, eh, in, eh... The error message, eh... It don't go. It don't go away. It stay here. Ok. 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 Chicos. Eh... Se teneis que organizarnos, eh, hacedlo por aquí a un segundo, se quireis. E... Asi io poi pago, apago il chat, apago tutto e mi... Intento di soluzionare questo problema, tico. Si. Disculpare per lo che ha passato, però non puoi essere ma. Non ha passato, è tua culpa? Tampoco. Che io... Io le preto. Ora mismo, eh, sto in una banda... A... 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 130 mil. Entiendes? 130 mil. E io non tengo nada abierto. Nada. Nada de nada. È solo un normale. Nada de nada. E sto con la, eh... Eh... Prestazione alta. Con l'ordinador. Tengo tutto appagato. Non tengo nada di online. Non tengo nada di... No, no, eh. Abierto. E io non lo so. E io non lo so. E io non lo so. Non ho fatto culpa, non lo so. Escolta del PC. Vale. No, anche perchè non mi... Non mi... Non mi hai fatto accettare... Vabbè? Amistoso. Mejor. Vale. Ci cose. Quindi... Un abbraccio a tutti. Lo vediamo in un rato e spero che tutto va bene. Il Paladins. Eh? Il Paladins. Il Paladins. Il Paladins. Il Paladins o... Il Paladins. Il Paladins.